Buonasera, oggi è un giorno tragico, un giorno di lutto per l'informazione italiana, per la RAI e soprattutto per noi giornalisti e tutti quelli che collaborano nel TG3. La nostra collega, la nostra amica Ilaria Alpi è stata uccisa poche ore fa a Mogadiscio, stava lavorando per noi, stava lavorando per la RAI. Insieme a lei è stato ucciso il suo operatore, Miran Krovatin. Miran aveva 45 anni, una moglie, Patrizia, un figlio di 7 anni, Ian, e così ci hanno lasciato e penso che con questo possiamo concludere. Buonasera. È il 20 marzo del 1994. Il giornalista del TG3, Flavio Fusi, conduce un'edizione straordinaria del telegiornale per dare la notizia della morte avvenuta in Somalia di una sua collega del TG3, l'inviata Ilaria Alpi e dell'operatore che stava lavorando con lei, Miran Krovatin. La voce di Fusi è spezzata, sta dando una notizia che non avrebbe voluto dare mai. Due colleghi sono stati uccisi a Mogadiscio in quello che sembra da subito un agguato, un'esecuzione. La giornalista aveva annunciato alla redazione poche ore prima che quella sera, era una domenica, avrebbe trasmesso un servizio molto importante, uno scoop, come si dice in gergo, su cui stava lavorando da tempo. Ma quel servizio non arrivò mai alla redazione del TG3, non fu mai trasmesso. Alpi, che era rientrata a Mogadiscio quel giorno dal nord della Somalia, fu pedinata da un commando armato per le strade della capitale, fermata e circondata mentre era sulla sua auto, quindi uccisa con un colpo alla testa. La storia di Ilaria Alpi non è solo la storia di una giornalista, di un'inviata molto preparata e coraggiosa che aveva scoperto un traffico di armi e rifiuti tra Italia e Somalia, ma è anche la storia di un omicidio a cui, a distanza di quasi trent'anni, non è ancora stata fatta né verità né giustizia. Dell'omicidio Alpi-Rovatin non sono stati individuati gli esecutori materiali né i mandanti né il loro movente, ma a trent'anni di distanza il silenzio non è calato sul caso grazie al lavoro instancabile di altre giornaliste e giornalisti che si sono occupati della vicenda e non hanno mai permesso che fosse archiviata. E' questo l'appello della Federazione Nazionale della Stampa e dell'Usigrai, non archiviare. Il caso non è stato archiviato dalle aule di tribunale né dalla memoria collettiva. Questa è quindi la storia di Ilaria Alpi, una giornalista della TV pubblica italiana uccisa a trentatré anni insieme al suo collega, il cameraman freelancer Milan Rovatin, mentre faceva il suo lavoro, ma anche la storia di altre giornaliste e giornalisti che non si sono fermati di fronte alla sua morte e hanno continuato a indagare, a portare alla luce i dettagli, scontrandosi con i silenzi delle autorità, con le omissioni, con le campagne denigratorie e soprattutto con i depistaggi. Questa è la storia di Ilaria Alpi che tra qualche giorno avrebbe compiuto 62 anni. Era nata il 24 maggio del 1961. Ma anche la storia di tutti quelli che hanno provato, in questi trent'anni, a portare alla luce la verità. Il 20 marzo del 1994, lo abbiamo detto, era una domenica, il giorno del ritiro formale del contingente militare italiano dalla Somalia. Alpi e Rovatin erano arrivati a Mogadiscio alle 12.30 con un volo militare perché avevano perso l'aereo per circostanze che non sono state ancora chiarite mentre erano a Bosaso, una città portuale affacciata sul golfo di Aden nel nord del paese e quindi avevano dovuto ritardare il loro rientro nella capitale somala. Qualcuno che non è mai stato identificato li ha accompagnati dall'aeroporto militare di Mogadiscio all'hotel Safi, dove risiedevano. Erano saliti in camera. Alpi collegò il telefono satellitare che aveva lasciato per diversi giorni in albergo e chiamò la famiglia, che non aveva sentito da molti giorni. In Italia era l'ora di pranzo. Parlò con la madre, Luciana, disse di essere rientrata nella capitale e che avrebbe trasmesso un servizio importante nel Tg della Sera. La madre rispose che sicuramente avrebbe visto il telegiornale e allora Ilaria annunciò che avrebbe chiesto alla redazione di stare qualche altro giorno in Somalia nonostante appunto le truppe italiane si stessero ritirando. La madre non reagì bene, chiese di invece tornare presto ma non volle intromettersi nel lavoro della figlia. Si salutarono. Alpi quindi chiamò la redazione e parlò proprio con Flavio Fusi. Lo stesso giornalista che qualche ora dopo avrebbe dato all'intero paese la notizia della sua morte annunciò che avrebbe mandato il servizio e poi disse ho una storia importante, Flavio. Anche Rovatin chiamò la famiglia. Parlò con il figlio di otto anni, Ian. Rovatin era stato molto impegnato nella guerra nei Balcani negli anni precedenti e aveva detto in diverse interviste che parlare al figlio che lo aspettava a casa lo aveva tenuto spesso lontano dai pericoli. Verso le 14 Alpi disse che doveva andare all'hotel Amana, vicino all'ambasciata italiana dove alloggiavano altri giornalisti italiani. Era una questione urgente e inaspettata. Fuori dall'hotel Safi era già pronta la Toyota Bianca, un pick-up. Alla guida c'era l'autista Ali Abdi, con lui un uomo di scorta armato di mitraglietta, Nur Aden. Rovatin decise di accompagnare la giornalista perché varcare la cosiddetta linea verde che divideva in due Mogadiscio era molto pericoloso. Passarono davanti a un posto di blocco che delimitava appunto la terra di nessuno, la linea verde presidiata dall'ONU che divideva in due la città, da una parte la zona controllata da Ali Abdi, Mohammed, dall'altra quella controllata dall'altro signore della guerra, Hussein Aidid. Proseguirono in direzione nord, arrivarono all'hotel Amana, non lontano dall'ambasciata italiana a Mogadiscio. Alpi scese dall'auto e entrò nella hall dell'albergo, mentre Rovatin restò fuori. Non sappiamo con chi aveva appuntamento e l'aria Alpi, chi cercava o chi l'aveva chiamata per convocarla. Mentre aspettava, Rovatin notò una Land Rover blu parcheggiata dall'altra parte della strada con sette uomini armati a bordo. Ebbe come la sensazione che lo stessero controllando. Poco dopo Alpi uscì dall'albergo. Non aveva trovato nessuno. I giornalisti italiani se n'erano andati da Mogadiscio. Non c'era più nessuno a Mogadiscio. Qualcuno era sulla nave Garibaldi per documentare l'ultimo giorno della missione militare in Somalia. Altri erano andati a Nairobi, in Kenya, per partecipare a una conferenza politica molto importante sul futuro di pace, provare un percorso politico di pace. «Voi due siete gli unici due giornalisti italiani a Mogadiscio!» aveva esclamato Abdi, l'autista. Allora i due si erano arrabbiati, chiedendogli perché non li avessi avvertiti. Ripartirono dall'albergo Amana per tornare nel loro hotel. Ma Rovatin si accorse che quegli uomini che lo stavano osservando poco prima, ora li stavano seguendo. Svoltarono a sinistra. Il fuoristrada blu era dietro di loro. Rovatin era seduto sul sedile davanti, vicino all'autista. Alpi invece era sul sedile posteriore. L'uomo di scorta era sul pianale del pick-up. «Ce l'hanno con noi?» disse Abdi, l'autista. Nur, dal pianale, gridò qualcosa. L'auto blu tagliò la strada e superò la Toyota su cui viaggiavano i due giornalisti. Abdi inchiodò. Dal fuoristrada blu scesero gli uomini armati e puntarono i loro fucili contro l'auto dei giornalisti. L'uomo di scorta, Nur, sparò due colpi. Poi l'arma si inceppò. Saltò giù dal pick-up e scappò via. Gli uomini armati avevano già circondato l'auto. L'autista aprì la portiera e scappò via anche lui. Gli uomini armati lo lasciarono andare, come avevano ignorato precedentemente Nur, l'uomo della scorta. Rovatin aveva il finestrino abbassato. Un uomo gli si avvicinò e puntò l'arma contro la sua tempia. Rovatin alzò le mani e si coprì la testa per difendersi, ma l'uomo sparò e lo uccise. Alpi gridò e si gettò sul sedile, coprendosi la testa anche lei. L'uomo armato aprì la portiera dell'auto, si avvicinò alla giornalista, puntò la pistola alla testa e sparò. Un proiettile calibro 9 sparato da distanza ravvicinata. Un solo colpo e la uccise. Un'esecuzione. Erano le 15.04 del 20 marzo 1994. Sul posto non arrivarono i militari, che erano a distanza a Mogadiscio, erano sulla nave Garibaldi. Non arrivarono le autorità italiane, che si trovavano all'interno dell'ambasciata, non distante dal luogo dell'agguato. Il primo, a giungere sul posto, fu un imprenditore, un faccendiere italiano, che viveva a Mogadiscio da dieci anni, Giancarlo Marocchino. Poi arrivarono anche due giornalisti che invece erano a Mogadiscio, a differenza di quello che aveva detto l'autista poco prima, Giovanni Porzio, di Panorama, e Gabriella Simoni, di Studio Aperto. Poi due giornalisti della TV svizzera italiana e due giornalisti della TV americana, insieme a un giornalista dell'Associated Press. Filmarono tutta la scena dell'agguato. È grazie a loro che sappiamo come furono ritrovati i corpi di Ilaria Alpi e Mira Rovatin. Ma successe qualcosa ancora di abbastanza strano. I corpi furono subito rimossi dall'auto. Fu Giancarlo Marocchino a spostare i corpi dall'auto per caricarli sulla sua macchina e poi recuperò i suoi effetti personali. Un block notice e due telefoni. Sapete che non si fa mai, subito dopo un omicidio, di spostare i corpi, i cadaveri di chi è stato ucciso. Davanti a una telecamera che riprese tutta la scena, Marocchino commentò a caldo. È stata un'esecuzione. Si vede che erano andati dove non dovevano andare. Una giornalista non dovrebbe mai diventare una notizia. Quando ai giornalisti viene impedito di fare il loro lavoro, o peggio quando sono minacciati, attaccati, feriti, uccisi, è l'intero sistema che è in pericolo. Un sistema che non sopporta gli occhi, la voce, dei giornalisti indipendenti è marcio. Ilaria Alpi voleva fare la giornalista fin da ragazzina. Lo ha raccontato la madre Luciana in diverse testimonianze. Conosceva molto bene le lingue e aveva studiato l'arabo. Aveva fatto la corrispondente freelance dal Cairo per Paese Sera e per l'Unità. Poi aveva partecipato a un concorso alla RAI sul suggerimento proprio della madre ed era arrivata prima con grande sorpresa, ma grazie proprio alla sua conoscenza delle lingue e alla sua preparazione. Fu assegnata immediatamente alla redazione esteri del Tg3, dove si distinse subito per la sua cultura e per la sua serietà. I suoi servizi erano scarni, pieni di informazioni. Lei non appariva quasi mai in video. Era andata in Somalia, l'ex colonia italiana che qualcuno ha definito la ventunesima regione italiana per la mole di interessi che gli italiani hanno sempre avuto nel Paese, per la prima volta il 20 dicembre del 1992, due anni prima a essere stata uccisa. Ed era rimasta per 20 giorni nel Paese durante il suo primo viaggio, perché erano arrivati anche i primi contingenti militari italiani per una ricognizione. Erano stati inviati in seguito alla decisione del Parlamento di partecipare alla missione internazionale Restore Hope, approvata dall'ONU il 3 dicembre 1992. La guerra civile era scoppiata in Somalia nell'86 ed è tuttora in corso, quasi 40 anni dopo. Dall'86 al 91 ha avuto le caratteristiche di una rivolta contro Siad Barre, il dittatore che guidava il Paese dal 69. Ma nel 91 Barre fu costretto alla fuga, tuttavia gli scontri tra i ribelli e i contro-rivoluzionari che cercavano di riportarlo nuovamente al potere proseguirono. Nel 92 le Nazioni Unite avevano deciso di intervenire con una missione umanitaria, UNOSOM, che poi era diventata UNITAF e UNOSOM2 fino al 95. Ma, come sappiamo, i caschi blu non raggiunsero mai l'obiettivo di ripristinare la pace. Il Paese sprofondò in una situazione di conflitto permanente. Le prime immagini girate da Alpi nel viaggio del dicembre 1992 mostrano l'interno di alcune case, i fori dei proiettili sulle pareti. Alpi è sempre discreta, non cerca il sensazionalismo, spiega con attenzione e cura il contesto complicato di cui è testimone. Le persone sono al centro dei suoi racconti. Nel villaggio di Abrun, Alpi ascolta le testimonianze dei feriti che sono rimaste vittime dei combattimenti e dei rastrellamenti. L'operatore la riprende mentre è seduta per terra sulle ginocchia. È all'interno di una casa, circondata da donne e da uomini. Indossa una camicia larga di lino azzurro, i capelli biondi raccolti in una coda. Tra dicembre del 92 e marzo 94 Alpi tornerà in Somalia per sette volte per documentare il conflitto ma anche per seguire la pista di un'inchiesta o forse di due inchieste. Quella sulla mala gestione dei fondi della cooperazione italiana in Africa è quella di un presunto traffico di armi e rifiuti tra Italia e Somalia. Senta, cambio completamente argomento. Parlano di questo scandalo di questo proprietario somalo con passaporto italiano che si chiama Mugne che avrebbe preso queste navi che erano di proprietà dello Stato e le avrebbe usate a suo uso privato. Lui? Lui solo. Lui con altre persone, io le chiedo di spiegarmi che cosa è successo. Beh, durante il collasso lui era a capo di questa flotta un internazionale che si chiama Shifko. Una delle ultime interviste che l'aria Alpi e Miran Rovatin avevano realizzato prima di essere uccisi era stata quella al sultano di Bosaso Abdullahi Musa Bogor un uomo sorridente e spigliato che aveva parlato con Alpi in un perfetto italiano per più di due ore. Era il 16 marzo, quattro giorni prima dell'agguato. Di quella intervista sono arrivati in Italia dopo l'omicidio solo 15 minuti delle due ore che era durata. E ancora oggi, a rivederla, si possono riconoscere dei tagli sulla pellicola. Che fine ha fatto la registrazione integrale di quella conversazione? È una delle domande che in 30 anni non ha ricevuto risposta. Bosaso, una cittadina portuale nel nord del paese affacciata sul golfo di Aden di fronte allo Yemen sembrava non essere stata toccata dai combattimenti. La vita continuava a scorrere senza troppi problemi e soprattutto il porto era molto attivo forse anche più di prima. E proprio alle attività di quel porto e a quelle della cooperazione italiana sembrava essere interessata a Alpi. Forse era proprio quello il motivo per cui aveva insistito tanto con i suoi superiori per tornare in Somalia un'ultima volta nonostante i dubbi dei suoi caporedattori. Sulla sua scrivania a Saxarubra c'era un dossier che era stato scritto dal giornalista e parlamentare Ettore Masina e che riguardava proprio gli affari sporchi della cooperazione italiana in Somalia una specie di tangentopoli parallela a quella che era scoppiata in Italia due anni prima. L'analisi degli interventi di cooperazione italiana in Somalia conduce ad alcuni drammatici peccati capitali. La cooperazione ha subito pesantemente la logica di interessi particolari espressi in Italia da aziende, lobby e gruppi di pressione che niente avevano a che fare con i bisogni reali della Somalia. Questa logica ha remurato interessi illegittimi in Somalia e in Italia, ha contribuito gravemente ad accentuare la corruzione e il distacco definitivo dell'amministrazione somala dai bisogni espressi dal Paese. Dieci anni di cooperazione sbagliata hanno contribuito gravemente al processo di deterioramento del Paese sfociato negli ultimi drammatici eventi, era scritto nel dossier. Ma anche, la parte più cospicua degli interventi della cooperazione è costituita dalla strada Garò e Bosaso, 260 miliardi. Questa strada attraversa per lo più le due regioni di Bari e Sanag, abitata da 200.000-300.000 persone, sparse su una superficie di 20.000 km2, quasi interamente pastori nomadi che vivono dell'economia del cammello. Sembra perfino comico chiedersi quale beneficio possano trovare questi da quel magnifico nastro d'asfalto. Il porto di Bosaso, altro progetto concentrato e assolutamente sproporzionato rispetto a ogni soffruibile utilizzazione, progetto pesca oceanica, costo totale circa 100 miliardi. Alpi voleva capire dove erano finiti quei soldi. Nei suoi taccuini aveva appuntato la parola Scifco, il nome di quella società italosomala che gestiva quei pescherecci, e Mugne, il cognome del suo proprietario. Ma aveva anche annotato una domanda estrapolata dal dossier di Masina, 1.400 miliardi di lire, dove è finita questa impressionante mole di denaro? Già, dove era finita quell'impressionante mole di denaro? Per questo Ilaria Alpi era andata a Bosaso, e per questo aveva voluto intervistare Bogor. Qualcuno le aveva raccontato di fusti di rifiuti tossici che erano stati inabbissati lungo la costa e sotto la strada Garò e Bosaso, costruita con i fondi della cooperazione italiana. Al sultano di Bosaso, Bogor, aveva chiesto che cosa pensasse dell'intervento militare dell'ONU, o quale potesse essere una soluzione politica per uscire dal conflitto. Ma poi avevano parlato degli affari che gli italiani avevano realizzato nel corso di quei decenni nella zona, senza nessun tipo di controllo. E poi era arrivata a parlare della questione a cui era davvero interessata. Cambiamo argomento, gli aveva detto durante l'intervista. Parliamo di questo scandalo, di questo proprietario somalo con passaporto italiano, Mugne si chiama, quello che avrebbe preso le navi di proprietà dello Stato e le avrebbe usate per uso privato. Il sultano allora aveva sorriso, imbarazzato, aveva preso tempo e aveva domandato lui? Sì, lui aveva confermato Alpi. Lui da solo? Aveva insinuato Bogor. Con quella mimica, senza dire apertamente nulla, Bogor le aveva suggerito che la questione era molto piestesa e che Omar Mugne, il presunto proprietario di quelle navi, non fosse che un prestanome, un pesce piccolo. Lui con altre persone, continuò Alpi. Mi aiuti a capire cosa è successo? Chiede a Bogor. Durante il collasso, intende durante la guerra civile, lui era il capo di questa scifco, che era una proprietà di Siad Bar, il dittatore, e faceva da amministratore. Quando è arrivato il collasso, lui si è preso le navi in Italia. Parte di questa proprietà apparteneva a una società italiana. È la società che lavora con Mugne. Mugne non era niente, non è niente tuttora, dice Bogor. La storia che Alpi aveva scoperto aveva a che fare con questi sei pescherecci, donati dalla cooperazione italiana alla Somalia, una flotta della società scifco. L'obiettivo apparentemente era quello di sostenere l'economia della pesca in Somalia, ma le navi percorrevano tracciati sospetti. Andavano in Italia a Gaeta una volta ogni sei mesi. Troppo poco per un'attività legata alla pesca. Le navi della scifco erano state inoltre registrate nei porti di tutta Europa e quando tornavano in Somalia erano impegnate in operazioni di carico e scarico molto fitte. L'ipotesi è che quelle navi trasportassero armi. Pochi giorni prima dell'arrivo di Alpi e Rovatina a Bosaso, una delle navi della scifco era stata sequestrata da alcuni miliziani locali. Di questo Alpi voleva parlare con il sultano di Bosaso. Bogorri, in effetti, nell'intervista aveva confermato di avere sequestrato una nave, diceva che non era possibile vederla e che non l'avevano fatta attraccare, ma non chiariva quale fosse il carico a bordo di quell'imbarcazione. Armi? Rifiuti tossici? Nel novembre precedente all'assassinio della giornalista, quattro mesi prima, era stato ucciso, sempre in Somalia, in circostanze misteriose, il sottoufficiale del SISMI, i servizi segreti militari, Vincenzo Licausi. Licausi conosceva l'aria Alpi e probabilmente era stato un suo informatore e aveva fornito alcune notizie sul traffico di armi e discorie tossiche nel paese africano. Quello, probabilmente, era il motivo per cui la giornalista era andata a Bosaso. Ma era quello il luogo dove, secondo Giancarlo Marocchino, non sarebbe dovuta andare? Quel 20 marzo del 1994 avevo 13 anni. Non mi ricordo esattamente dove ero quella domenica e dove ho sentito la notizia dell'uccisione in Somalia di Ilaria Alpi e Miran Rovatin. Sicuramente avrò ascoltato anche io, come tanti, l'annuncio del TG3 attraverso la voce rotta di Flavio Fusi. Mi ricordo che ne parlammo in classe il giorno successivo. Mi ricordo che mi avevano colpito molto il volto giovane di quella giornalista, la sua voce così chiara, gentile, le foto di quell'operatore così imponente nel fisico, Miran Rovatin. Erano anni ambigui e oscuri, anni di grandi cambiamenti. Una generazione di ragazzini come me era cresciuta con l'idea violenta e deflagrante che si potesse essere uccisi mentre si faceva il proprio lavoro. In Italia si poteva essere uccisi perché si era troppo bravi, perché non si voleva rinunciare a fare bene il proprio lavoro, troppo affezionati alla verità. Solo due anni prima, nel 1992, erano stati uccisi i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fatti saltare in due attentati di mafia avvenuti a 57 giorni di distanza l'uno dall'altro. Due omicidi che avrebbero cambiato per sempre il nostro sguardo sul mondo, sulla storia, sulla giustizia e sul potere. Dunque lei ha calcolato le difficoltà, razionalizzato la sua risposta e affrontato con tutta la sua capacità organizzativa i pericoli della battaglia. Ma uno si chiede ma perché questo impegno estremo? Come lo giustifica rispetto a se stesso e rispetto a quello a cui ha dovuto rinunciare? Io ritengo che certe cose richiedono un determinato tipo di impegno, certe altre un impegno maggiore, certe altre un impegno massimo. È inutile affrontare certi problemi senza essere preparato a spendere tutte quelle energie che i problemi richiedono. Allora è meglio nemmeno metterci male. Se sono stato, non dico costretto, ma se mi è stato richiesto di fare una determinata attività non posso che attrezzarmi in quella determinata maniera. Altrimenti è inutile, altrimenti è meglio che si cambia mestiere. Ma lo Stato merita un tale impegno, un tale sacrificio. Per quale idea dello Stato lei sta lottando? Non credo che ce ne siano diverse idee dello Stato. Più che lo Stato, direi che è la società di cui lo Stato non è altro che un'espressione. Nello stesso anno, un'inchiesta condotta da altri magistrati, mani pulite, avrebbe spazzato via la Prima Repubblica e l'intero sistema politico italiano. Un terremoto. Alla fine di marzo del 1994, Silvio Berlusconi scese in campo, vinse le elezioni e divenne il protagonista assoluto dei decenni successivi. In quei due anni affondano le radici della formazione politica e civile di una generazione, forse più di una generazione, che era cresciuta nella spensieratezza e nel disimpegno degli anni Ottanta. Le grandi narrazioni politiche erano scomparse con disonore e al loro posto si stagliavano queste figure di semplici cittadini, magistrati, giornalisti, che con la loro passione civile incarnavano l'interesse pubblico e lo difendevano anche a costo della vita, la loro forza e la loro vulnerabilità. Erano eroi, loro malgrado, celebrati con moltissima retorica da morti, almeno quanto erano stati ostacolati e isolati durante la loro vita. Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno, aveva detto Giovanni Falcone poco prima di essere uccisi. Per chi è cresciuto negli anni 80 e 90, Ilaria Alpi e Miran Rovatin come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono state figure mitiche, individui che sono rimasti in piedi nel loro rigore etico mentre tutto il sistema politico e sociale stava crollando. Le loro morti violente, seppure annunciate, sono state la perdita dell'innocenza per più di una generazione, il risveglio brusco di un paese che si pensava moderno nel pieno del benessere e che invece era arretrato, in parte ancora governato da poteri oscuri e deviati. Mi sono iscritta alla scuola di giornalismo della fondazione Lelio Ellis Libasso intorno al 2006, più di dieci anni dopo. Ed è lì che ho incontrato la memoria e l'eredità di Ilaria Alpi attraverso il lavoro dei suoi colleghi, e cioè dei giornalisti del Tg3 che erano stati i suoi amici, compagni e superiori. Massimo Loche, che è stato il mio insegnante, era il caporedattore di Ilaria Alpi. Era stato lui ad autorizzare quell'ultima missione in Somalia, anche se non era troppo convinto, perché non c'erano molti soldi per sostenere quella missione. Ma Ilaria aveva insistito molto per tornare in Somalia. Maurizio Torrealta invece era un suo collega e dopo la morte della giornalista aveva preso in mano il lavoro di Alpi e condotto molte inchieste per il Tg3 proprio sulle tracce di quei pescherecci della Scifco su cui Alpi stava lavorando. Per loro l'omicidio Alpi-Rovatin era diventato una specie di ossessione. Aveva trasformato le loro vite con prezzi anche molto pesanti che avevano dovuto pagare, per esempio, delle perquisizioni nelle loro case. Fu durante una lezione di Torrealta che vidi per la prima volta quell'intervista al sultano di Bosaso, Bogor, e imparai a riconoscere quei tagli che erano stati fatti sulla pellicola. L'intuizione era venuta a un montatore della RAI che aveva avuto tra le mani quel materiale. Quell'intervista era stata pesantemente manomessa. Fai quello che devi, succeda quello che può. Era il motto di un altro giornalista che ho conosciuto, la Fondazione Relio Basso, Roberto Morrione. Fa quello che devi, succeda quel che può. Era il leitmotiv di un gruppo di incredibili giornalisti di inchiesta che hanno guardato il potere dritto negli occhi in quegli anni e lo hanno sfidato molte volte. Il caso Alpi Rovatin non esisterebbe se non se ne fossero occupati in maniera eccellente e in tempi diversi decine di giornalisti e giornalisti passandosi il testimone. Maurizio Torrealta, Roberto Scardova, Federica Sciarelli, Andrea Palladino, Luciano Scalettari, Chiara Cazzaniga, Santo della Volpe, Fabrizio Feo, Sabrina Giannini, Giovanni, Maria, Bello. I giornalisti hanno fatto quello che per molto tempo non hanno fatto invece le autorità. Hanno indagato su quella morte, continuando a raccogliere documentazione e illuminando gli angoli oscuri. Spesso lo hanno fatto in mezzo a molti ostacoli e molte difficoltà. Sappiamo per esempio, grazie alle riprese fatte dal cameraman della TV svizzera italiana nelle camere di albergo di Alpi e di Rovatin subito dopo l'omicidio, che c'erano almeno 20 cassette beta-cam che erano state registrate nell'ultimo viaggio dei due giornalisti. Mentre i tacquini di L'Aria Alpi, L'Aria Alpi scriveva tutto, erano almeno 5. Tuttavia, arrivarono in Italia solo 2 tacquini e 6 cassette. Nessuna autorità italiana, come dicevamo, andò sul luogo del delitto. I corpi furono subito rimossi dalla Toyota e spostati nell'auto di Marocchino, quindi trasferiti al porto vecchio di Mogadiscio e da lì sulla nave militare Garibaldi con un elicottero. L'auto in cui è avvenuto l'omicidio non è stata mai sequestrata, né sono state fatte delle fotografie dell'auto. L'auto è sparita. I due cadaveri sono stati esaminati da un medico militare a bordo della nave Garibaldi, sono state scattate delle foto, poi sono stati trasferiti di nuovo all'aeroporto militare di Mogadiscio, nell'obitorio, il giorno successivo su un jet militare che li ha portati in Italia. Le due bare sono arrivate a Ciampino alle 2 di notte del 22 marzo con un aereo militare. Il giorno successivo sono state sepolte. Non sono state sequestrate le armi dell'autista e della scorta. Non è stato fatto nessun rilievo sulla macchina e anche in Italia le cose non sono andate meglio. Non è stata aperta nessuna indagine e sui corpi non è stata fatta nessuna autopsia. Solo dopo la denuncia dei genitori di Laria Alpi, Giorgio e Luciana, è stata aperta un'indagine contro i gnoti. Anche i bagagli dei due giornalisti sono stati manomessi. Ci sono una ventina di cassette, appunti, tacquini, una macchina fotografica, quando i giornalisti riprendono nelle stanze dell'hotel Safi, quando Porzio e Simoni arrivano a raccogliere gli effetti personali dei colleghi. L'impacchettano, ma chiedono appunto all'operatore della TV svizzera di riprendere tutto come testimonianza. 14 colli, due borse e una busta nera partono da Mogadiscio. Sono sigillati e spediti a Luxor, in Egitto, ma all'arrivo a Ciampino i bagagli non vengono sequestrati dalle autorità italiane e soprattutto i sigilli non ci sono più. Sono stati manomessi. Mancano all'appello, infatti, diverse cose. Le foto dei corpi scattate sulla nave Garibaldi, certificati di morte, la macchina fotografica di Alpi, diversi tacquini e cassette. Infine, molti dei testimoni o delle persone coinvolte nel caso Alpi Rovatin sono spariti o sono morte. Per esempio, l'autista, Abdi Adam, ucciso in Somalia dopo aver testimoniato nel processo in Italia, o l'uomo della scorta, Nur, che è sparito. È stata aperta una commissione di indagine parlamentare sull'omicidio, presieduta dall'onorevole Carlo Taormina. Carlo Taormina disse che Alpi era in vacanza in Somalia e ha ipotizzato, alla fine dell'inchiesta, della commissione di indagine, che fosse stata vittima di un gruppo di banditi che voleva sequestrarla e ha escluso, invece, che fosse vittima di un'esecuzione e di un agguato. Anche il processo si è scontrato con diversi tentativi di depistaggio. Sarebbe lungo elencarli tutti, ma il più importante è stata sicuramente la vicenda che riguarda Ashi Omar Hassan, l'unico imputato per la morte dei due giornalisti, accusato di avere fatto parte di quel commando che ha ucciso i due giornalisti. Hassan fu condannato con l'accusa di avere fatto parte di quel commando, ma la sua posizione fu del tutto rivista, dopo che il suo principale accusatore, Ali Ahmed Dettogelle, ritrattò le accuse rivelando che erano calugne, solo calugne. Così, dopo oltre 16 anni in cella, nel 2016, per Hassan arrivò l'assoluzione e un risarcimento da parte dello Stato italiano di 3 milioni e 181 mila euro per ingiusta detenzione. Ma secondo la famiglia di Ilaria Alpi hanno sempre detto che Ashi Omar era stata una specie di capro espiatorio, protagonista di un vasto depistaggio. Ma la storia non finisce qui. Dopo la scarcerazione, l'uomo era entrato, era rientrato a Mogadiscia, era ritornato in Somalia, ma è morto l'anno scorso, nel luglio del 2002, in un attentato. Una bomba è esplosa sotto il sedile dell'auto su cui viaggiava nella capitale Somala e non è, appunto, l'unico protagonista di questa vicenda ad aver perso la vita in circostanze misteriose. Il 21 novembre del 2014, Luciana Riccardi Alpi, la madre di Ilaria, ha scritto una lettera ai vertici dell'Associazione e del premio Ilaria Alpi, che premiava i migliori giornalisti di inchiesta televisiva italiani, e si è dimessa da socia, chiedendo di chiudere il premio giornalistico intitolato La Figlia, perché non è stata fatta giustizia sulla morte di Ilaria. Si sentiva presa in giro dalle autorità italiane. Questo impegno con l'andare degli anni è divenuto particolarmente oneroso, anche per l'amarezza che provo nel constatare che nonostante il nostro impegno, le indagini in sede giudiziaria non hanno portato a nessun risultato. Luciana Alpi è morta nel 2018 senza aver avuto né verità né giustizia. Io ho perso, perché io ho perso, ho chiesto scusa a mia figlia che lasciavo e sono sicura che se lei fosse stata qua, certo, non ci sarebbe tutto questo trambusto, ma se lei mi potesse parlare, mi direbbe mamma, l'avrei fatto prima, sono sicurissima di questo e questo mi dà così, un po' di calma, ma sono veramente amareggiata di questo comportamento, perché Ilaria non meritava questo. grazie. 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 Grazie.